A Nichelino, grazie al bando top metro del Governo per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie, sono stati realizzati importanti interventi di manutenzione straordinaria di scuole primarie e secondarie, nell'ambito di un'operazione in cui la città metropolitana ha giocato un ruolo importante di coordinamento e accompagnamento dell'amministrazione locale nella partecipazione al bando. Alla presenza degli amministratori locali, della consigliera metropolitana delegata alle politiche giovanile, sociali e di parità, sono stati presentati ai giornalisti locali e alla cittadinanza gli interventi realizzati nella scuola primaria Sangone. Che cosa significa per voi insegnanti e poi anche per i bambini lavorare, perché il vostro è lavoro quotidiano, importante, faticoso, lavorare in un ambiente più sicuro, più confortevole? Sicuramente è importante perché fin da quando sono piccoli i bambini acquisiscono il concetto del bello, del vivere in un ambiente che sia confortevole, che sia gradevole, curato e si apprende anche l'idea che diventa fondamentale per il cittadino di domani di vivere e di prendersi cura dei beni comuni. Cioè questo è il valore fondamentale che fin dalla scuola primaria e della scuola dell'infanzia cerchiamo in qualche modo di far raggiungere i nostri alunni. Quindi vivere otto ore in un ambiente curato ci permette, permetterà ai nostri alunni di diventare degli adulti che si prenderanno anche cura del bene comune. In particolare qui c'è stata una sostituzione degli infissi ma anche la riqualificazione dei bagni, della palestra, quindi una scuola più a misura di bambino tutti i giorni perché un bambino qua passa tante ore della giornata. Certo, i nostri alunni entrano a scuola alle otto e un quarto ed escono alle sedici e un quarto, fanno otto ore di scuola, quindi hanno la giornata piena e questo chiaramente permettere di vivere in un ambiente come dicevamo prima che è confortevole e anche ben esteticamente curato fa la differenza anche per gli insegnanti e per i bambini. Abbiamo visto una scuola che si preoccupa anche dell'educazione diciamo extra didattica dei bambini, l'orto che sta nascendo, l'orto didattico, la cura per gli alberi, per questo parco e proprio per formare i cittadini di domani. Sì e per formare i cittadini di domani, questo è stato forse l'insegnamento che abbiamo tratto dall'esperienza del covid e quindi quello che anche nelle scuole si potessero riqualificare, riconvertire gli spazi esterni, spazi esterni importantissimi nel quale far didattica e quindi rendere i bambini protagonisti anche all'esterno e non solo più sui banchi di scuola.